Ma io non capisco quelli che con sentimenti di forte critica e opposizione al governo Berlusconi salvano il ministro Maroni che è soltanto un ottimo propagandista, ma è il ministro del temporale come direbbe Antonio Albanese cioè il ministro che si è incaricato di mettere in opera le politiche securitarie in Italia ogni 5 euro che si spendono sul capitolo migranti, 4 sono per la repressione e 1 per le politiche di inclusione queste sono le cose che ci dice la Caritas che è uno dei pochi organismi che si occupa anche in maniera scientifica di monitorare questa materia Lampedusa è stato fin dall'inizio della crisi in Nordafrica un problema più di rapporto con l'elettorato leghista che non di rapporto tra l'Italia e il resto del mondo avremmo dovuto consentire di fronte al fatto che si intrecciavano guerra e rivoluzioni in tutta un'area del mondo avremmo dovuto consentire il rilascio di quel permesso di soggiorno per ragioni umanitarie senza distinguere tra gli esseri umani che arrivano Ma come fai dentro il caos incandescente del Mediterraneo a distinguere tra chi è profugo e chi è migrante economico come si dice? Le distinzioni il governo le ha fatto soltanto sulla base della cittadinanza Un tunisino è un migrante economico, un libico è un profugo ma un tunisino che negli ultimi dieci anni ha lavorato in Libia ha diritto di poter raccontare il proprio percorso e le espulsioni vietate dalle convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali come espulsioni collettive quando invece riguardano un'intera condizione etnica tutti i tunisini non si verificano appunto come espulsioni di massa non stiamo violando tutte le convenzioni internazionali e poi questo cavolo di mare, il Mediterraneo che incendia di retorica tanti discorsi ha 16.000 morti ammazzati dalla cattiva globalizzazione io li ho definiti le Twin Towers dei poveri il Mediterraneo veramente come un cimitero liquido ma nessuno sente come insopportabile quel prezzo di vite umane e non le sente come una mutilazione della nostra stessa vita?